Andiamo al cavallo Brini, Brini andiamo al cavallo Brini si attento, va, che bella, un grande palazzo, prendi lui dadi, sono tutte qua, oh bello andiamo al cavallo Brini, dai andiamo da lì mamma aspetta aspetta andiamo al cavallo ecco la dadi, si dadi prendila, prendila lui perché andiamo al cavallo Brini, vieni con papà, vieni con papà oh stai tento, Brini, aiè andiamo a vedere come mangio il cavallo cavallo questa è una colonia, è proprio una colonia tutti gli anni, a marco vengono e se ne vanno verso settembre, ottobre dove sta il cavallo? adesso andiamo, tra di sotto ce l'ho, ah ok beh, l'estate, l'estate stanno giù, stanno come si chiamano queste rondini? con la rossa con la rossa con la rossa biscuit ciao biscuit ciao biscuit questo è il cavallo questo è il cavallo questo è il cavallo questo è il cavallo così è però è una cosa strana o è fungito da qualche pianta perché qui non ci sono qui, non ci sono qui che rimangano no, non c'è, perché il perno non lo passano quello è un cello tropicale penso che il perno muore picciona, picciona no, aspettiamo aspettiamo, aspettiamo hai, ambatang maculit ben, 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 ben ben, ben, ben è troppo caldo, amore andiamo, andiamo dentro, andiamo dentro e mamma e mamma vita ho sentito stamattina ho sentito dai, prepariamo dai, prepariamo la l'accivo di cavallo vai grazie a tutti 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 grazie a tutti